La livida turba adirata Prima dagli all'eretico, al mascalzone, che con le bubole si fa conoscere. Poi, tra la livida turba adirata dei benpensanti, nasce il suo successo geniale. Il filosofo impertinente, con l'improperio, offende per bene i personaggi e fa ancora più fuffa. Eppure agli occhi limpidi, che ti fissano raramente. Se ci ripenso, mi metto a ridere, per come il bubolaro è diventato qualcuno. Perché? Commento. Perché il bubolaro ha eseguito la legge, per cui ogni massa merita il suo maestro. Grazie. 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 Grazie.